My name is Samuele, iniziamo con latte e aglio, portiamo a bollore e andiamo a fare una crema. Questo ci servirà per una nostra crema, il secondo step, mettiamo i peperoncini e li puliamo. Andiamo a levare tutti i semi. Da qui li portiamo a bollore per 15-20 minuti, stessa cosa vale per la nostra crema di aglio. Nel frattempo facciamo la crema ai broccoli. Abbiamo dei broccoli sbollentati, messi in acqua, fatti bollire 5 minuti, poi andiamo nei bimbi. Andiamo proprio ad aggiungerli. Grazie a tutti. Grazie a tutti. una volta cotti e frullati ci viene questa consistenza e andiamo a preparare il nostro piatto si chiama disco volante la nostra pasta particolare diamo 9 minuti di cottura una volta cotti questa è la base del peperoncino e invece qua abbiamo la nostra crema di aglio andiamo a prepararci con due cucchiai di crema aggiungiamo un goccettino di brodo perché rimanga un po' più liscia ok 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 ecco 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Sale e pepe, giusto da ottenere il gusto che vogliamo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Una volta spenta la fiamma, andiamo ad aggiungere ancora un'altra crema. Grazie a tutti. Una volta che è bella cremosa, andiamo ad impiattare. Grazie a tutti. Iniziamo con il nostro aglione. Andiamo a finire con il nostro beperoncino. Ok. L'ultimo tocco, per dargli un po' di croccantezza, andiamo a mettere dei broccoletti, solo le cime, saltate semplicemente con dell'olio. Abbiamo sempre di sale e di pepe. Ok. Ok. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.